Si susseguono le polemiche intorno alla possibile realizzazione di impianti di discarica in alcuni comuni e all'emergenza rifiuti si aggiunge la protesta delle comunità preoccupati della sostenibilità ambientale dei propri luoghi. Nei giorni scorsi il presidente del lato rifiuti Cosenza, Marcello Manna, ha incontrato i primi cittadini della provincia, un'assemblea a cui hanno partecipato 56 dei comuni convolti nel corso della quale è stato proposto un possibile piano di interventi nella gestione dei rifiuti nel Cosentino. E se il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, si è reso disponibile alla creazione di un ecodistretto per la raccolta e trattamento della spazzatura dei 150 comuni, non ha trovato invece, conferma alcuna, neanche da fonti ufficiali, la realizzazione di una discarica nel comune di San Pietro in Amantea. E il sindaco del borgo Cosentino, Giacchino Lorelli, ha inteso smentire categoricamente la notizia apparsa su alcuni organi di stampa, offrendo i chiarimenti del caso. Sindaco, partiamo dal principio. Quando inizia questa storia? Questa storia inizia circa nel 2011 con il federalismo demaniale, quando noi abbiamo acquisito quest'area a costo zero e da lì è iniziato poi un percorso ad arrivare fino ad oggi. Un percorso che ha portato al completamento e all'iter di tutta questa storia, cioè oggi qui noi dovrebbe assorgere una centrale di compostaggio progettata dai tecnici del Centro Nazionale Ricerche in collaborazione con la Regione Calabria, denominato Forum, cioè in poche parole la trasformazione della frazione umida in compost. Sarebbero le vecchie cose che facevano una volta i contadini e le alimentavano per i vari terreni. Struttura di compostaggio. È proprio questo aspetto che voglio chiarire perché ieri sono usciti alcuni articoli in cui parlavano di discarica. Assolutamente no. Questa è stata chiarita anche nella conferenza dell'Aro, convocata dal presidente Roberto Perrotta, del sindaco di Paola. In quell'occasione è stato specificato che questa qui era esclusivamente un centro di compostaggio. Un impianto di compostaggio quindi che andrebbe a supportare appunto quella che è una situazione alquanto drammatica che sta vivendo la Calabria in questo periodo sindaco, però basato appunto su progetti di ecosostenibilità diversi sono appunto i comuni. In questo progetto qui hanno aderito tutto il comprensorio, sono 9-10 comuni. Andiamo a baciare un bacino d'utenza di 30.000 abitanti. È totalmente ecosostenibile questo progetto e sicuramente darà respiro e penso che questa stessa idea deve essere rifatta in altri ambiti, in altri comuni, perché se tu azzeri l'umido già vai a ridurre circa il 30-40% del rifiuto. Quindi poi dopodiché questo andrebbe in discarica, ma non è una cosa nostra perché io la specifico, la discarica non so se è costruita in altri comuni. Però voglio ribadirlo che nella riunione del 5 settembre era presente il vicepresidente Granata, poi giorno 16, come ho detto, c'è stata un'altra riunione a Cosenza e da Cosenza era uscita questa, chiamiamola bufala, di una discarica nel comune di San Pier di Namantea. La nego totalmente.